benvenuto io sono gian e voglio condividere con te la mia passione per la cucina nel mio canale ricette di gian troverai principalmente ricette italiane gli antipasti semplici e sfiziosi prime e secondi piatti gustosi e non possono mancare i dolci prelibati ti invito ad iscriverti il mio canale per vedere ogni settimana nuove video ricette su come cucinare dei piatti veloci e appetitosi che potrai provare commentare e condividere con chi ti pare affrettati a iscriverti al mio canale di cucina le ricette di gian ti aspetto ciao ciao a presto da gian